Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Ancora nelle prossime ore saremo in compagnia di un debole campo anticiclonico che garantirà per qualche ora ancora un po' di sole sui nostri territori. Infatti ho indicato nella giornata di domenica cieli ancora in prevalenza sereni o poco nuvolosi, ma come vedete un'area di bassa pressione posizionata fra le isole britanniche e la Francia via via si sposterà verso est e ad interessare già a partire dalla sera di domenica i nostri territori settentrionali dell'Italia portando le prime deboli piogge. Cosa accadrà invece la settimana prossima? Ho indicato proprio quest'area depressionaria, quest'area di bassa pressione che andrà a influenzare il tempo nei primi giorni della settimana prossima portando delle deboli precipitazioni, delle deboli piogge su gran parte del nostro territorio aerobico con temperature anche abbastanza basse, con massime acclusone non superiori agli 8-10 gradi e le prime spruzzate di neve intorno ai 1800-2000 metri di altitudine. Vedete come l'anticiclone via via tenderà a spostarsi verso l'Egeo favorendo proprio l'ingresso di questa perturbazione, un clima decisamente fresco per il periodo. Ma andiamo con ordine, vediamo l'evoluzione del tempo per la giornata di domani domenica che vede cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al primo mattino sia nella zona dell'Alta Valle Seriana, Val di Scalve e Val Cabonica mentre avremo anche qui una parziale nuvolosità nella zona della Medio-Bassa Valle Seriana e del Lago di Iseo. Nel corso della giornata velature via via in fase di ispessimento su tutto il nostro territorio che saranno diciamo gli avamposti della perturbazione atlantica che ci andrà appunto a interessare dalla sera quando indicato cieli per lo più coperti sul nostro territorio e dalla tarda serata arriveranno anche le prime piogge seppur di debole intensità. Sarà un clima ancora abbastanza mite per il periodo con temperature più miti in montagna mentre le inversioni termiche porteranno temperature al primissimo mattino quasi prossime ai 2-3 gradi sopra lo zero nella zona dell'Alto Piano di Clusone. Andiamo invece ora all'evoluzione del tempo per la settimana vedete come già nella giornata di lunedì saremo interessati da delle deboli piogge che bagneranno gran parte del nostro territorio con temperature decisamente fresche per il periodo compriere fra i 6 gradi di minima e gli 8 gradi di massima uno zero termico che si posizionerà intorno ai 2000 metri di altitudine e le prime deboli nevicate intorno ai 1800 metri di altitudine. martedì ho indicato un tempo abbastanza instabile con frequenti annuvolamenti accompagnati da locali piovaschi ma anche qualche pausa asciutta temperature vedete ancora basse intorno ai 4 gradi di minima e 9 gradi di massima con uno zero termico in rialzo a 2100 metri di altitudine. Mercoledì arriverà una seconda perturbazione che porterà di nuovo delle piogge sul nostro territorio seppur di debole intensità temperature comprese fra i 5 gradi di minima e i 9 gradi di massima zero termico ancora posizionato a quote abbastanza basse nelle ore centrale giornate intorno ai 2000 metri di altitudine e quindi nuove spruzzate di neve che saranno possibili intorno ai 1700-1900 metri di altitudine. Giovedì ho indicato un graduale miglioramento del tempo via via la bassa pressione tende a rimarginarsi sul nostro territorio si faranno avanti delle ampie schiarite sui nostri territori con temperature al primo mattino intorno ai 2-3 gradi sull'altopiano di Clusone e 12-13 gradi come valori massimi uno zero termico che grazie anche all'insolamento e all'insolazione diurna si porterà intorno ai 2500 metri di altitudine. Vedete come venerdì ho indicato di nuovo nuvole in avvicinamento sul nostro territorio perché saremo raggiunti poi in serata da un'altra perturbazione che porterà qua e là qualche locale più vasco. Temperature ancora nella media del periodo comprese tra i 4 gradi di minima e i 10 gradi di massima. E per il medio è tutto vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.